Sono 166 giovani creativi che hanno preso parte al premio Nuvolosa, il concorso dedicato al fumetto, riservato ai giovani fra i 16 e i 35 anni, organizzato dall'assessorato alle politiche giovanili del comune di Biella. Il tema di quest'anno, la natura che verrà, ritorno al passato, viaggio nel futuro, è collegato all'edizione 2022 di Selvatica. La giuria sta esaminando i lavori, sottolinea l'assessore alle politiche giovanili Gabriella Bessone e ci stiamo preparando alla chermessa di marzo a Palazzo Ferrero. 101 sono stati partecipanti tra i 19 e i 29 anni, ma sono arrivate anche opere da 19 ragazzi under 18 e da 46 giovanissimi tra i 30 e i 35 anni. La Fondazione Cassa dei Risparmi è felice di sostenere Nuvolosa, con cui c'è profonda affinità di contenuti, sottolinea il segretario generale della Fondazione, Andrea Quaregna. Il Abielese è un territorio ricco di arte e di natura siamo certi che la grande partecipazione giovanile al festival potrà contribuire a far meglio conoscere e apprezzare le potenzialità del nostro territorio. Le opere sono arrivate da tutta Italia. Il Piemonte guida la classifica con 28 partecipanti, 4 quelli biellesi, seguito dai 19 del Veneto, 16 dalle Marche, 15 del Lazio, oltre 10 dalla Sicilia e poi dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, insomma sono comunque rappresentati quasi tutte le regioni italiane. Ora è iniziato il lavoro di selezione e come negli anni scorsi la commissione è prestigiosa e al contempo eterogenea con profili professionali decisamente diversi tra loro.